Da un anno Max Biaggi ha ritrovato la sua stabilità in amore. Dall'estate 2020 lo sportivo frequenta la giovane attrice e modella Francesca Semenza. Dopo lo scoop del settimanale Chi, che aveva paparazzato la nuova coppia in atteggiamenti intimi nel Principato di Monaco, si erano perse un po' le tracce di questa love story. Ora un gesto di Biaggi fornisce nuovi aggiornamenti. La liaison procede a gonfie vele. In occasione del compleanno di Francesca Semenza Max Biaggi ha condiviso sul suo account Instagram seguito da oltre 200.000 follower un selfie con la fidanzata. Happy birthday, babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono, ha scritto l'ex pilota più che mai coinvolto da questo legame. Sei speciale? Ha risposto la Semenza tra i commenti. Tanti fan hanno lasciato auguri e complimenti alla coppia per la loro bellezza e il loro affiatamento. A lasciare un lichè allo scatto anche altri famosi come l'ex calciatore Francesco Totti e l'ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Quella con Francesca Semenza è la prima relazione seria per Max Biaggi dopo la brusca rottura con Bianca Azei. I due si sono amati per circa un anno. Con tanto di presentazioni in famiglia. Ma a dodici mesi dal primo incontro si sono mollati.